Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi siamo qua con un nuovo video di Sekiro per andare un po' avanti Allora, parto con la segnalazione di tantissimi voi ragazzi, ovvero questo percorso che mi ero perso Dove dovrebbe celarsi della roba interessante, per cui andiamo E vediamo, intanto siamo qua, per chi fosse interessato, qua dove c'è il gigante che avevo incontrato l'altra volta Giù Ok, così l'avete visto Allora, qui c'è, stando a quello che mi avete detto, un nemico imbattibile, ma anche degli oggetti interessanti Saliamo Allora Chi si cela? Allora, questo è quello imbattibile, benissimo Però Apri, 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 apri Allora, piume di corvo della nebbia Un mucchio di piume di corvo della nebbia Adattabile alla perota di Shinobi per diventare uno strumento prostetico Nella foresta di Usui, a nord di Ashina, vivono molti uccelli predatori, tra cui il corvo della nebbia Eppure nessuno ne ha mai catturato uno Se cerchi di prenderne uno, ti ritroverai con un mucchio di piume in mano C'è altro? No Se lei mi facesse uscire Va bene Aspettiamo che lui se ne vada E fuggiamo lontano, mille miglia Tacci come core Via, via Ok Ma ha perso di vista? Sì Allora Preso quello, io direi Di tornare Andiamo a vedere cosa ci montano E poi riprendiamo da dove abbiamo lasciato ieri Perché da quel che ho visto Temo che quello non sia abbattibile Per il momento Però, sto oggetto a detta vostra potrebbe essere molto utile Vediamolo all'opera Intanto abbiamo comunque Allora, intanto ho potenziato la fiaschietta Abbiamo tre utilizzi E quello dovrebbe darci parecchio margine Per andare avanti E chissà, magari pure superare quel maledetto boss Dunque Io però l'ho lasciato in giapponese Sto valutando nei commenti del precedente episodio E in quelli che vedrò su questo Se mantenerlo oppure no Non ne ho più, bene Chissà, chissà Vabbè Signora La saluto Bene Allora, caro Scultore Non c'è Oh Se vieni attaccato Vabbè Ce l'ha già detto La saluto La ringrazio Arrivederci Io riparlerei con lei Giusto per sapere se C'è qualche dettaglio interessante Che ci interessa Magari ci dice Magari ci fosse una cosa sola Di allarmante Qui in mezzo Allora Vediamo Allora io leverei Lo shuriken caricato Di un'inutilità Clamorosa E passerei a questo Allora Eeeh Vabbè Lo proviamo su qualcuno Perché Andiamo Eeeh Dunque Abbiamo tre punti Ne mancano ancora due Per arrivare qua Ma ci penseremo Allora Si diceva Muro esterno Scalinato Ok Così riprendiamo Da Da ieri Eeeh Secondo me Con tre fiaschette Questo nuovo Strumento prostetico Beh Quel Quel maledetto Mini boss Lo potremmo Anche provare Ad abbattere Secondo me Allora Allora L'orco Non c'è più Ringraziamo il cielo Carissimo Pinocchio Come dire Diceva la famosa Canzone Allora Dunque Eravamo Qua Abbiamo anche il binocolo Adesso E io lo userei Scusate Scusate Vabbè Ah ok Nemici Tre Per ora Individuati Quattro Ah Benissimo Lui lo avevo Completamente ignorato Vabbè Quindi Ovviamente Di ceramica Però scusate Io non ho ben chiaro Se viene attaccato Tanto l'utilizzo Puoi scomparire Ma vedi altrove Non mi è molto chiaro Quando viene attaccato In questa posizione Sposta Distanzialmente Nella direzione Scelta con El Ah Quindi diciamo Che è una sorta di Vabbè Va Va compreso Un attimino L'utilizzo Ma Diciamo Che è una sorta Di Perri Proiettivo Che hai deciso Nessuno Ha visto Niente Tu Non mi hai Visto Però Io per arrivare Da te Scusate Cerchiamo di capire Anche il discorso Desta benedetta Ceramica No Desta benedetta Cioè, se sono girati tutti Tranne quello che mi serve a me Meraviglioso Ti giri? Ti giri? Ah, va bene, senti Ah, va bene, senti Abbiamo finito? Sì Ma chi è che sta assonando con quella cattiveria? Ma la fai finita? Ma la fai finita? Deve suonare il campanaccio Ecco Allì Vai Lui mi sa che è tosto Quando iniziamo così Venga generale Porca miseria generale Io l'ho provato a usare sta cosa ma non Fa malissimo sto tipo Fa malissimo Fa malissimo Fa malissimo Fa malissimo Grazie a tutti. No ma no ma no me la stavo me la stavo giocando benissimo me la stavo giocando benissimo sono sudatissimo me la stavo giocando benissimo me la stavo giocando benissimo io devo capire come si usa comunque questa nuova questa nuova funzione prostetica Che più che prostetica sembra prostatica perché proprio non boh vabbè e non lo so Vediamo che di fare tutto il giro di Peppe come prima va bene Vorrei realmente capire Facciamo un test con questo pagliaccio qua Vieni colpiscimi Però In pratica devo beccare il momento esatto in cui cioè sincronizzare il mio Il mio Il momento in cui vengo attaccato Con Ci si può provare allora Ci si può ci si deve provare anche perché gli altri Non mi sembravano particolarmente utili le funzioni prostetiche Quindi andiamo avanti così Andiamo avanti così Secondo me Comunque nel senso Se avessi retto altri 10 secondi Avremmo vinto e anche bene Eeeh Il problema è che Stava vicino allo sbilanciamento ma Io mi ero giocato male l'inizio e quindi Allora Si può partire anche così dai C'è pure quest'altro Dai che si è incastrato Dammi tutto Ok Vieni vieni mi segua Non mi è molto chiaro come funziona sta cosa ancora Porca miseria che botta Ma la mia parata serve A fa che Me la sono rigiocata malissimo Niente Me la sono giocata malissimo Me la sono giocata malissimo 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 Sì vabbè Sì vabbè però cioè Mannaggia la miseria Mannaggia la miseria Mannaggia la miseria Vabbè Eeeh Ci devo riprovare Ci devo riprovare Allora Siamo di nuovo qui Sarà Problematica Sì c'è la miseria Ce la possiamo fare Ma perché Non Non me para mai Non lo riesco a sbilanciare Una volta che sia una Non lo riesco a sbilanciare Una volta che sia una Maledetto Non lo riesco a sbilanciare Ma stavo Ma stavo Imparata Allora Ci siamo di nuovo Si può fare Si può fare Con un po' di coraggio E fortuna Si può fare Con un po' di coraggio E fortuna Non sta arrivando al momento Si potrebbe fare Aspetta Non si riesce a A oh Porca miseria Non gli ho levato niente Stavolta Non ce se fa È una cosa Allucinante Niente Non ci si fa Non ci si fa Non ci si fa No vabbè Addirittura C'ha gli occhi dietro Della testa Vabbè C'ha gli occhi dietro Della testa Va bene Ha gli occhi dietro Della testa Allora A sto giro si fa A sto giro si fa Generale Yamauchi Venga Ma perché Mi faccio sempre fregare Da sta cosa Perché Voglio vedere Il fuoco Che effetto Gli fa Ma porca miseria Niente Favo finta Che abbiamo scherzato Dai ma Piaschetta Piaschetta Allora Se non mi agito Niente Io continuo a fare Sempre Il momento in cui Smetterò De fare Sta cretinata Forse sarà il momento In cui vinceremo Sta Sta sfida Ma fino ad allora Vabbè Fino ad allora La vedo male Allora Cerchiamo di fare le cose Con un po' di intelligenza Oh Che miseria Niente Io non Per quanto mi sforzi In alcuni momenti Non ce si riesce Non ce si riesce Ce dovrai rimanere Primo o poi Se Porca miseria Se Se Eh Dai e dai For A forza De De Cazzottoni Eh Se Non ce posso Crede Non ce posso Crede Che sia già Già Comunque È allucinante Anche Il Mini boss Più Più squallido Del mondo Mamma mia Ma che fatica Ma che fatica Comunque Ci abbiamo messo sicuramente Meno Rispetto a Alla volta Del Dell'orco Però Comunque Sempre tanto Coriando Le divini Non ho ben capito A che servano Ancora Ma poi lo capiremo Vattene Se ti è cara la vita Non puoi decapitare I senza testa Le nostre spade Lanci sono inutili Bene Beh Siccome qua Le belle notizie Non finiscono mai I senza testa Mancavano In effetti Si sentiva La mancanza Di qualcosa Di Di Allegro Finalmente Lo abbiamo Trovato Io dovrei La mi posso Aggrappare Ma me la rischio Non sono proprio Convintissimo Perché Me la rischio? Vabbè Tanto Regà È brutta Mamma mia Mamma mia Mamma mia Ho perso Dieci anni Di vita Qua Bene Ok Salta su Per carità Confetto Di Gai Shin La Mi tocca Lanciarmi Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Ok La Io non so Come arrivarci Non mi sembra Proprio Fattibilissimo Qua non c'è Nessuno Dove Sbuco Alla C'è una Spadina E l'ho Vista Tana Per Spadino Allora Qua Niente E Vabbè 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 ma così Alla cieca Porca Porca Miseria Ma perché vado lento Uh Ma non è Fattibile Per niente Al mondo Vabbè Vabbè Alzo le mani Signori Io direi che Per il momento Ci potremmo Fermare qua Ehm Vado a dare I grani Di rosario No Ce li ho alla Mamma mia che fatica A sto gioco E sarà Madre Santissima Ehm Usiamoli Usiamoli Rega Miglior Attributi Fisici Si Grani Grani da rosario Legati insieme E offerti A un idolo Dello scultore Aumentano postura E vitalità massime E rosario Ben si addice Ai forti L'esercito Ascina È noto Per la sua Ferocia E i suoi generali Sono spadaccini Di grande talento Considerati esperti Nello stile Ascina Dell'arte Della spada Oh Il livello massimo Dei viderai Postura aumentata E qua Finisce qui Che bello Wow Vabbè Io andrei Andrei Quanti soldi c'ho? Ehm 113 Quanto vuole questo Perché tanto poi Ah Compresse Borsello Leggero Kunai Fantasma Kunai Dalla falena Seguita per potenziare Lo sciurico Incaricato Al lancio Del kunai Si ode Un tintennio Nella scia Dall'arma Appaiono Falene Fantasma Siene dall'infanzia La falena Si è addestrata Nella foresta Di Usui Lontana Dalla civiltà Lungo Il senzio Di Tozan È una foresta Misteriosa Ideale Per allenarsi Nelle tecniche Illusorie Vabbè Mi compro Due Due compresse E via Dalla 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 Di Usui Dalla 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 Sì, non è vero, non è vero, non è vero. Grazie. Non è ben chiaro che cosa dovrò fare Ma va bene Sta visione Non ci dà margini per il momento Vabbè ragazzi io direi che per ora possiamo Trattarci qua se avete dritti suggerimenti Consigli soprattutto fatemelo sapere in un commento E noi ci aggiorniamo domani Dove ovviamente andremo a fare Sta prova del 9 contro Il mini boss Quello gigantesco che tanto mi aveva fatto sclerare Ma forse adesso siamo pronti per affrontarlo Non lo so fatemi sapere Io credo che quello sotto non sia fattibile Quindi niente Si accettano consigli e ci vediamo Alla prossima